Cos'è un bracciolo ergonomico? Un bracciolo ergonomico fa parte di una sedia da ufficio o sedia ergonomica perfettamente funzionante. La sedia ergonomica è una delle principali considerazioni per chi sta progettando un acquisto o un aggiornamento di mobili per ufficio ergonomici su vasta scala. Sempre più uffici stanno cercando di acquistare mobili ergonomici per la futura produttività dei dipendenti e con attenzione agli standard di salute e sicurezza all'interno di un'azienda o di un'azienda. Lo studio generale dell'ergonomia è lo studio di come il corpo umano si relaziona con mobili o altri oggetti inorganici, inclusi diversi tipi di strumenti o attrezzature di lavoro. Il tipo di ergonomia che include il design ergonomico del bracciolo è decollato quando i personal computer hanno fatto molti lavori sedentari e, in particolare, workstation intensivi. Così molti dei lavoratori di oggi passano la maggior parte del loro tempo al computer che un movimento globale di ergonomia è sorto per garantire che questi milioni di lavoratori siano adeguatamente protetti, proprio come le vecchie campagne di regolamentazione proteggevano i lavoratori manuali. Il bracciolo ergonomico potrebbe essere progettato con attenzione al modo in cui il braccio esercita pressione sulla superficie della sedia. Gli esperti di ergonomia potrebbero considerare il gomito o i polsi nella progettazione di un bracciolo ergonomico e parti della sedia, nonché il modo in cui influisce sull'uso del mouse di un computer. Un altro elemento chiave di un bracciolo ergonomico è che dovrebbe essere regolabile per adattarsi a persone di diverse stature. Insieme alla sedia ergonomica, i professionisti di ergonomia includono polsini e schermi ben posizionati e periferiche per computer per creare uno spazio di lavoro ergonomicamente corretto. Alcuni imprenditori potrebbero non pensare a un bracciolo ergonomico come prima considerazione per gli acquisti di mobili per ufficio, ma attraverso molte grandi e piccole aziende, consulenti e altri convincono chi è responsabile delle decisioni sull'arredamento e sulle attrezzature che l'ergonomia fa davvero la differenza. Le aziende valutano se fornire questi prodotti meglio progettati per aiutare a ridurre le richieste di risarcimento dei lavoratori, per elevare il morale per investire ulteriormente in un'azienda completamente moderna. Ciò ha portato alla generale commerciabilità della sedia ergonomica e del design del computer da scrivania. Alcuni tipi specifici di sedia ergonomiche stanno ricevendo molta attenzione nel mercato generale dei mobili. Gli elementi di questi design includono la superficie in mesh con elasticità, il supporto del legno per la parte bassa della schiena e i braccioli ergonomici. Guardare queste opzioni in un catalogo e avere una discussione franca sull'ergonomia può aiutare gli acquirenti o altri a prendere la decisione finale su ciò di cui hanno bisogno un ufficio o uno spazio di lavoro.